Eccoci qua, benvenuti, buonasera a tutti, caro popolo di Economia Italia, mettete un bel like perché questa sera abbiamo Piero Savastano che ha accettato il mio invito, grazie mille Piero, benvenuto. Ciao, grazie a te. Allora, come va? Tutto bene? Insomma, raccontaci un po' di te per introdurre un po' l'argomento di questa sera che è super mega interessante secondo me sull'intelligenza artificiale. Sono un infognato di intelligenza artificiale di lunga data, è sempre stato il mio lavoro, sono partito come ricercatore, da ragazzo proprio mi sono specializzato su simulazioni del tessuto nervoso, che poi sono diventate reti neurali, che poi sono diventate deep learning, adesso chiamiamo AI, mi piace tantissimo, per tanto tempo ho fatto un libro professionista, che ho divulgato qui su YouTube, poi ho lanciato un progetto che si chiama Stregatto, c'è Sharket AI che è open source e che va in direzione di questi nuovi language model e poi magari ti racconto, quindi al momento sto facendo soprattutto questo. No, la cosa che più mi ha preso, ascoltandoti rispetto alle esperienze che hai, è che non vieni dalle STEM, cioè tu non hai fatto il classico percorso di ingegnere informatico, informatico, informatica pura, ma sei partito da una cosa che apparentemente, per chi non è del settore, è qualcosa di distante, ma in realtà è strettamente collegata, quindi la metto già qua all'inizio, in modo tale che tutti si rendano conto che l'informatica è per tutti. Però vorrei sentire te, da dov'è che arrivi? Vengo da una branca della psicologia, che si chiama psicologia cognitiva, in cui si paragona la mente a un qualche tipo di computer, e in particolare all'interno di questa psicologia c'è un approccio di tipo sintetico, ossia l'idea è costruiamo delle simulazioni che facciano cose simili a quelle del cervello e della mente umana, e quindi poi lì si va a simulare i neuroni, il tessuto nervoso, e lì c'è il contatto con le reti neurali e tutte queste cose che stiamo vedendo. Sicuramente ci sono arrivati a partire dalla psicologia e soprattutto a partire da un intento che è di tipo conoscitivo della mente umana, più che di ingegnerizzazione dei sistemi. E quanto ti aiuta? Penso ad esempio Deep Learning, quando tu vai a strutturare un neurone, soprattutto in epoche magari passate, visto che giustamente tu hai molta più esperienza di me, ma immagino che già nel 2000, i primi 2000, iniziavi a scrivere qualcosa. Però quanto ti aiuta magari a definire un framework o definire appunto la struttura di questo neurone? Allora, aiuta perché hai una visione di alto livello che spesso sia gli ingegneri che anche i fisici, che in questo settore, devo dire, sono i più potenti proprio. Però è una visione d'insieme che ti permette di anticipare tutta una serie di progressi, anche di giocare al tuo vantaggio. Per esempio, tutto il discorso dell'apprendimento per rinforzo, non so se si guido, Alpha Fold, Big Mind, Alpha Go, Alpha Zero. Ecco, spiega questo apprendimento con rinforzo, che così ci perdiamo il 50% del pubblico, ma almeno... Sì, allora non solo... Certo, scusami, allora non solo in questo periodo stiamo facendo fare a queste simulazioni di tessuto nervoso, delle cose sempre più spinte, no? Cioè, GPT viene da questo filone. Ma stiamo anche, e questo più che la branca OpenAI Microsoft viene dalla branca Google DeepMind, stiamo, tanno, noi guardiamo, costruendo macchine che sono in grado non solo di imparare dai dati, con queste simulazioni di tessuto nervoso, per cui i dati sono l'esperienza, quello che per noi è l'esperienza nel caso di queste simulazioni di tessuto nervoso sono dati, non solo imparano dai dati, e quindi dall'esperienza, ma sono anche in grado di costruire comportamenti adattivi in base a segnali di rinforzo, ossia zuccherino e bastonata, fuoco, acqua, acquazzone, fuochino. Cioè, l'apprendimento per rinforzo è una formalizzazione del bastone della carota, di teorie della psicologia sperimentale degli anni cinquanta del novecento, che poi sono state proprio convertite in formule matematiche e poi portate nelle simulazioni. E quindi hai motori fichissimi che imparano a giocare a scacchi, imparano a giocare a Go, imparano a giocare a Starcraft, e lo fanno proprio accogliendo questi segnali e aggiustando sempre di più la loro strategia per poi vincere. Mi sembra quasi una sorta di metodo delle secanti. Non so se qua sparo un po' troppo forte, però questa ricerca degli zeri, delle radici, che è continuamente un trial and error. Possiamo quasi immaginarcela così. Io sto andando fuori luogo. E lì ci sono un sacco di punti di contatto con tanta roba. Tra l'altro il modo in cui apprendono le reti neurali che costruiamo oggi si fa con la matematica del liceo. Alla fine è un misto di matematica del liceo e forza bruta. E big data. Assurdo. Però, appunto, come dici tu, c'è questo neurone che ti dà... Cioè, avere anche un approccio più basato forse sulla psicologia e conoscere come funziona il cervello umano ti dà un input, secondo me, importante per comprendere il tutto. E quindi qua ti chiedo quanto siamo distanti dal creare qualcosa che si avvicina al cervello umano. Perché oggi siamo probabilmente a livello topo, gatto, una cosa di questo tipo. Però, ad esempio, un delfino, un cavallo, un cane, qualcosa di questo tipo. Cioè, secondo te, è vicina questa cosa o è abbastanza lontana? Ti puoi prendere da un po' di punti di vista. Dimmi tu qual è quello che ti piace di più. Allora, se la prendiamo dal punto di vista della scala, ossia di quante connessioni stiamo simulando, i cosiddetti parametri, perché si è notato che all'aumentare dei parametri, tra l'altro, i parametri devono aumentare esponenzialmente per far crescere l'intelligenza in modo lineare. dieci, cento, mille, devi aggiungere uno zero per aumentare l'intelligenza, non basta raddoppiare. siamo a tre, quattro... All'una parte hai un'esposizione, cioè, scusami, un andamento esponenziale, dall'altra c'hai un andamento lineare, sostanzialmente. Esatto, sì, sì. Ok. Devi usare esponenzialmente più dati per far crescere questa intelligenza. Infatti, poi le big tech si sono fermate a livello di scala perché comincia a non combinare più. Comunque siamo a tre, quattro ordini di grandezza dal cervello umano, dai. Ok. Mancano tre, quattro, massimo cinque zeri per arrivare al numero di connessioni che abbiamo noi. Poi da lì a capire che succede. Questo è un modo di guardarla. L'altro modo è, vi posso dire, che quando nel 2020 è uscito GPT-3, che è l'antenato di chat GPT, è stato proprio un fulmine a ciel sereno nel mondo accademico che continua a seguire con piacere, si parlava di queste cose, di sì, ma ce la facciamo tra dieci, tra quindici, tra cinquant'anni e sono diventati cinque e quindi anche io ero tra gli scettici. Al momento non mi espongo più nel dire che la famosa AGI, Artificial General Intelligence, è lontana. Secondo me comincia ad essere parecchio vicina. Ok, ok. Sì, ho dieci anni, non lo so. Però prendo un tema che secondo me forse qua apriamo la discussione interessante, cioè sul concetto di intelligenza. Tu a un certo punto, io mi ricordo questo video perché l'ho visto recentemente, sei andato a prendere una formula per definire intelligenza, no? Perché noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, superintelligenza, eccetera, eccetera, eccetera. Poi alla fine non andiamo mai a definirla, cioè nel senso questa roba è molto oscura il più delle volte è semplicemente ce lo immaginiamo come un fit, detto proprio francamente, in verità penso che tu possa darci qualche elemento in più. E quando parlo di intelligenza, tu hai fatto un bel esempio rispetto appunto a se io riesco a compiere qualcosa di semplice, allora sono intelligente in relazione appunto a questo andamento inverso, no? Poi se hai sotto mano il paper sarebbe interessante riprendere la formula e metterla a schermo, poi magari in post-produzione lo aggiungo. Però volevo stimolarti su questo aspetto. Cioè, stavo riflettendo appunto a seguito di quel tuo video e mi chiedevo ma non è intelligente chi è che riesce a copiare? Sembra una stupidata, però se io ci penso quando prendo l'uomo delle caverne, ok? Che va a combattere con il leone, faccio una battuta, l'uomo delle caverne crea appunto un'arma utilizzando pietra o utilizzando bastone, il leone la vede, adesso io sto semplificando ovviamente però è interessante, e se vince questo scontro comunque non ricrea quest'arma, si affida alle sue zanne banalmente. Un altro essere umano invece quando vede appunto questo bastone lo ricrea perché comprende appunto che c'è dietro una certa tecnologia, un certo know-how e gli può dare un vantaggio competitivo evolutivo. Secondo me dovremmo incanalare o comunque prendere anche in considerazione questo aspetto di intelligenza, cioè quello di copiare perché poi l'innovazione se ci pensi è sempre un fattore in cui io prendo qualcosa da più disparati ambiti e poi creo qualcosa di incrementale o qualcosa di disruptive ci mancherebbe. Un esempio che faccio è quello della colonoscopia in cui un medico e un ufficiale dell'esercito se non vado errato uniscono le loro competenze e alla fine creano la colonoscopia che sembra una battuta ma alla fine della fiera è andata più o meno così stringendo molto. Tu cosa ne pensi da questo punto di vista? Mi vengono a mente un sacco di cose. La prima è che l'apprendimento per imitazione è un'area di ricerca molto grande in cui appunto c'è pure una grossa evidenza neuroscientifica i cosiddetti neuroni mirror sono stati scoperti da un italiano se non erro comunque i neuroni mirror sono proprio neuroni che abbiamo all'interno del nostro tessuto nervoso e che sparano correlandosi con determinati eventi che succedono al di fuori e che riguardano i movimenti delle persone quindi questa dovrebbe essere una grossa parte dell'apprendimento in generale l'imitazione può essere vista come un sotto insieme dell'esperienza perché tu insomma immagina che sei di fronte a un flusso dati quando sei in grado non solo di segmentare da questo flusso dati che ci sono altre persone che fanno delle cose che queste cose hanno delle conseguenze e se anche in grado di astrarre il fatto che quelle cose le puoi fare anche tu allora poi passi a limitazione e quindi è una specie di bootstrap forse da questo punto di vista no assolutamente però io la pensavo proprio anche su un modello di addestramento cioè alla fine della fiera adesso sto stringendo molto il modello di addestramento cos'è io ti passo delle feature ok cioè delle caratteristiche o comunque degli elementi dei dati delle informazioni tutto quello che vuoi di lato ti faccio vedere qual è il risultato cioè per quello mi è venuto più semplice definire intelligenza sulla base di questo aspetto che secondo me va un po' oltre quella definizione che davi che però mi era piaciuto un sacco riflettendoci all'inizio perché appunto coglie il fatto se io sono di fronte a un qualcuno che mi può imitare e che può creare anche un danno a me come umano cioè alla fine della fiera noi lottiamo per la sopravvivenza che ho detto proprio male però il nostro scopo come esseri viventi stringendola molto ovviamente poi qua non sto andando su questioni etiche ma semplicemente biologiche è quella di mandare avanti la specie ecco quindi la vedevo da quel punto di vista che poteva essere interessante ah guarda se vuoi facciamo un giro io l'equazione l'ho trovata no vai 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 puoi mettere in share c'hai proprio un tastino di sotto un po' come streamer adesso suppongo che tu sia più abituato a quello di software entire screen ecco di qua eccoci si vede? si 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 allora posso guardare un attimo questa che ti è piaciuta la guardiamo insieme e poi guardo chat no instruct gpt vi faccio vedere come hanno addestrato chat gpt perché è parecchio legato a quello che stavi dicendo sia dell'imitazione sia del del rinforzo sia del negativo positivo di avere questo sistema di valori che alla fine nelle macchine è solo numerico però vuole imitare il nostro sistema di valori e il piacere il dolore esatto questo qui questi diagrammi ti sono mai capitati sotto gli occhi? no ok questo è un trip della madonna vai 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 considera questo canale più è tripposo più ci piace ne devo trovare una ad alta risoluzione vabbè prendiamo questa ok che non è tantissimo grande no partiamo da ok comunque adesso ci torno magari sai cosa fai in impostazioni e metti in dimensioni immagini grandi eccolo ah ecco trovata ottimo ottimo allora per partire da questo qui dove siamo? qua siamo in una definizione di intelligenza data nel nel contesto dell'apprendimento per rinforzo intelligenza artificiale qui stiamo dato una formalizzazione matematica a quello che è il piacere e il dolore come il piacere e il dolore è un sistema di valori influenza il modo in cui si apprende ok si differenzia questa branca dall'apprendimento supervisionato cosiddetto classico perché nel supervisionato noi siamo di fronte alla macchina visto che tu hai fatto anche di video tutorial col python di supervisionato in quel caso tu sei di fronte alla macchina si si diciamo che sono meglio quelli di pietro detto francamente sono cioè ci vuole ci vuole di far conoscere queste cose che sono fighissime secondo me quindi tanta roba complimenti ok grazie mille quello lì è supervisionato perché se ci hai fatto caso tu hai x e y hai l'entrata e l'uscita a monte e a destra della macchina facendo cosa dandogli l'input tu conosci già l'output la macchina dà delle risposte misuri l'errore rispetto alla risposta attesa quindi tu la risposta attesa ce l'hai ok sulla base di questa discrepanza vai a vai a cambiare i parametri le connessioni della rete vai a fare una sorta di calibrazione questo si è come accordare una chitarra no? questo si chiama supervisionato perché tu conosci già la risposta e quindi aggiusti continuamente le risposte della macchina fino a che non fa quello che tu dici e gran parte dell'intelligenza artificiale funziona così oggi questa roba qui è apprendimento per rinforzo è un po' più spinta ed è usata sia per declinare chat gpt alla conversazione sia in tutti questi modelli di deep mind tipo alfa fold per le proteine il alfa zero alfa go tutti questi queste intelligenze artificiali che hanno battuto i campioni nel mondo in vari giochi incluso starcraft questo qui è un po' diverso perché nell'apprendimento per rinforzo tu non dici alla macchina guarda che la risposta esatta era questa tu gli dai soltanto un numero il cosiddetto rinforzo che è un numero che è positivo se vuoi premiare la macchina e negativo se la vuoi punire ok ed è parecchio diverso perché un conto è sapere già la risposta in anticipo un conto è dire ok stai andando bene stai andando male qual è la grossa differenza che se tu conosci la risposta in anticipo tu appunto fai fitting come dicevi anche tu prima fai un bel pit fai in modo che la macchina bene o male diventi un approssimatore della funzione che tu vuoi esprimere con i dati ma che non sai scrivere direttamente quindi la fai approssimare alla macchina ma sai le risposte in tanti casi tu le risposte non le sai per esempio nel gioco degli scacchi tu non sai qual è la mossa migliore se tu vuoi addestrare una macchina a trovare la mossa migliore il massimo che puoi fare è dirgli guarda ok la tua situazione sulla scacchiera è migliorata oppure è peggiorata certo beh ecco rifacendoci poi anche agli scacchi però tu diciamo che hai comunque un numero di mosse finite penso che sia più difficoltoso fare il calcolo tendenzialmente non sono infinite c'è un numero finito alla fine la fiera più passi fai avanti più si stringono le possibilità se ci pensi la combinatoria esplode subito gli scacchi ma col go esplode ancora più velocemente no il go io non lo conosco non so che è molto più più complesso degli scacchi poi anche passando a roba tipo starcraft in cui il campo da gioco non è tutto conosciuto e quindi ti aspetti non solo che la macchina scelga le mosse ma che poi mandi degli agenti in giro per la mappa a esplorare cioè è proprio ultra complesso molto più aleatorio però in questo caso tu stai agendo poi su delle situazioni di valore atteso che stanno sempre a un certo intorno per cui vabbè poi se hai seguito qualcosa sai che io sono molto legato alla teoria degli estremi e un po' per per lavoro per il lavoro che faccio ovviamente però mi immagino un'intelligenza artificiale di questo tipo adottata sul rischio finanziario cioè io avrei una paura tremenda a questo punto di vista cioè nel senso quando va bene sono tenuto ben lontano da tutti i potenziali clienti che mi hanno chiesto di fare trading con questa roba perché a livello teorico è tutto bello poi però hai a che fare con degli ambienti talmente rumorosi che c'è un conto è fare in modo che una macchina ad esempio parlando di serie storiche no ti aiuti a prevedere che ne so i flussi turistici quanto vende un negozio in base a giorno della settimana mese insomma dove c'è una periodicità di un qualche tipo tanto più si va su andamenti finanziari che sono soggetti a cambiamenti continui un sacco di rumore speculazioni cambiamenti continui lì so che si usa questa roba anche lì però è rischioso non è inefficiente questa cosa cioè secondo me l'intelligenza artificiale è utile proprio quando la fai lavorare su qualcosa che diciamo più o meno conosci o comunque ne sai un indirizzo ad esempio in questo caso quando tu vai a fare i flussi turistici alla fine della fiera un Sarima o un Sarimax o secondo poi della tua situazione puoi adattare il modello non puoi rispondere meglio e con meno risorse alla tua domanda sotto certi aspetti con quel compito là forse sì però c'è ad esempio il linguaggio il nostro linguaggio il linguaggio è molto utile invece dal punto di vista numerico il linguaggio è una serie storica multivariata cioè per chat GPT il linguaggio è una serie multivariata cioè ogni token è un array numerico e quindi chat GPT vede tutta la conversazione fino a quel momento come una una lista di di array è una serie multivariata sì ti stimola ancora su un altro aspetto cioè può essere visto che poi se ne parlava visto questo meccanismo di di premialità si parlava di un chat GPT che è diventato via via sempre più annoiato quasi e quindi può essere che sia più interessato a risponderti in modo preciso su quel 20% scusami su quell'80% di domande che gli fa il 20% del pubblico rispetto a quell'80% di domande che gli fa il 20% del pubblico cioè quello che dico io c'è GPT forse anche da questo punto di vista si sta un po' atrofizzando a tuo avviso no non è una cosa vera è più una leggenda metropolitana no no io credo che non solo sia vero che chat GPT sia via via più debole così come GPT 4 però il modo in cui me lo spiego è questo loro OpenAI ma anche gli altri creano dei modelli che costano tantissimo è tipico dell'attività di addestrare modelli di deep learning di addestrare rete neurali che tu prima imbrocchi un'architettura una rete che riesce a risolvere il problema e una volta che hai imbroccato la rete che ce la fa risolvere il problema piano piano la fai più piccola e cerchi a mantenerla allo stesso livello di prestazioni tradotto in termini economici se mi costa per far girare chat GPT di tenere su ogni mille persone tot GPU se riesco a trovare una rete più piccola che regge che più o meno è prestante allo stesso modo io spendo meno per far per accontentare quelle mille persone quindi il chat GPT si è stupidito perché e qui abbiamo le prove perché i modelli sono cambiati cioè chat GPT in realtà era sempre una rete neurali diversa via via più piccola così loro risparmiavano infrastruttura e via via più stupida ho capito quindi diciamo che c'è una specie di scalare cioè di solito quando tu fai un business tendi a scalarlo quindi buona sostanza probabilmente Altman aveva bisogno di allargare sotto certi aspetti anche la base utenti renderlo più veloce più fruibile quindi è andato a scalare il business sotto certi aspetti riducendo la potenza mi stai dicendo questo detto in altri termini si tra l'altro io avevo dei sospetti ho anche litigato con personaggi che fanno parte della community stregatto perché mi dicono ah no i fanboy di Microsoft mi dicono ah non puoi dire queste cose che poi non hai le prove poi dopo sono usciti gli articoli in cui i ricercatori hanno fatto benchmark con chat GPT prima chat GPT dopo erano due modelli con prestazioni diverse no no certo lo stesso GPT 4 era molto più potente appena uscito poi chiaramente gli costa una fracca farlo girare quindi piano piano vanno a riaddestrare modellini che sono più piccoli e cercano di tenere quelle prestazioni sì però alla fine della fiera mi sembra quasi che stanno giocando sulla dipendenza che hanno sviluppato ti faccio un esempio sta con overflow sta perdendo un sacco di traffico negli ultimi 6-7 mesi ne ha perso un sacco perché ovviamente le persone magari quando in giro il codice su Python su R quello che è apposto che secondo me è sbagliato però vabbè quello è un altro problema passano il codice direttamente c'è GPT nella speranza che gli risolva il bug o gli risolva l'errore che hanno fatto e secondo me questa cosa crea una forte dipendenza e anche un incentivo poi a pagare l'abbonamento premium per appunto la versione 4 o addirittura farsi il proprio plug-in di intelligenza artificiale all'interno del proprio ambiente sostanzialmente e boh secondo me è qua un po' di aggiotaggio una cosa di questo tipo comunque non è proprio non voglio dire illegale perché comunque loro te lo danno gratis quindi a un certo punto lo capisco pure che vogliono farci due spicci però non mi sembra proprio in linea con quello che avevano dichiarato soprattutto il loro payout questa cosa di fare una cosa per altruismo efficace e via discorrendo cioè mi sembra un po' sì no infatti non so se hai seguito la telenovela di Altman sì sì l'ho seguita lì è proprio a me sembra lampante qua però andiamo sul piano delle ipotesi quindi diciamo che sto fantasticando però quello che ho capito è che Sudskever che è allievo di Hinton che è quello che ha inventato il filone scienziati Sudskever che è uno dei geni al momento del deep learning all'internazionale voleva andarci piano con la commercializzazione Altman era solo commercializzazione si è creata una frattura gigante lì internamente Sudskever ha cercato di fare fuori Altman però siccome i soldi OpenAI ce li aveva grazie a Microsoft che è stata agganciata e sostenuta da Altman poi ci saranno state un bel giro di chiamate in cui Microsoft ha detto ragazzi fate fate pace rimettetevi a fare quello che vi abbiamo pagato per fare altrimenti vi asfaltiamo tutti è rientrato Altman e quindi la storia di OpenAI che è no profit che vuole salvare il mondo dall'AI corporate cioè loro sono l'AI corporate sono diventati esattamente quello che sono nati per combattere e non credo che sia colpa di tutti lì dentro una parte che ha vinto che è quella che ha creato l'ente commerciale all'interno della no profit c'è un organigramma proprio assurdo dove c'è la no profit la bordo della no profit e poi è stata creata una LLC che è di proprietà della no profit e poi questa compagnia for profit ha preso i finanziamenti da fuori e ha messo dei cap al ritorno su questi finanziamenti hanno fatto delle cose proprio che era barzelletta ha vinto Altman ha vinto Microsoft ha vinto Altman dal punto di vista organizzativo una barzelletta perché non puoi credere realmente di avere possesso di un profit quando hai praticamente 10 miliardi non incassati da Microsoft perché è questa la cosa che cambia tutto secondo me Microsoft lì è stata intelligente poi se vuoi possiamo anche parlare di questo però è stata intelligente perché perché loro gli hanno detto io ti prometto 10 ma ovviamente sulla base di step raggiunti e comunque su accordi vedi scorrendo per cui tu ti sei impegnato su 10 cioè hai riparametrato il tuo business sapendo che ti arrivano 10 miliardi però questi 10 miliardi ancora non sono stati pagati per cui in verità la coltella della parte del manico c'è la Microsoft fuori di dubbio che il vero controllore di OpenAI ormai è Microsoft e qualche altro investitore però non so quanto sia quanto sia importante perché anche qui non è proprio trasparente tutto quello che tutto quello che sappiamo rispetto anche ai finanziamenti e suppongo che sia giusto anche così dopo tutto si tratta di beneficenza come dicono loro sotto certe poi voglio dire ci sarebbe niente male dire ragazzi no 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 assolutamente in pieno stile americano vogliamo fare gas vogliamo fare cornering aggressivo che è quello che Microsoft sta facendo ormai da anni aggressivissima l'intelligenza artificiale però loro hanno avuto questo percorso un po' a zig zag che insomma è un po' strano poi devo dire io ero preoccupatissimo dal fatto che i modelli più potenti fossero tutti chiusi perché ad esempio OpenAI fino a che si è parlato di GPT3 Instruct GPT che è quel diagrammette che facevo vedere prima hanno spiegato tutti i risultati e quindi i ricercatori potevano studiarsi di cercare di ripetere da chat GPT in poi hanno completamente smesso di pubblicare paper se non diciamo roba a margine oppure delle brochure non sono dei veri propri paper scientifici sono più che altro delle brochure commerciali ecco ero preoccupato adesso non sono più preoccupato perché c'è stata una reazione forte di meta con lama cioè è nato un ecosistema di modelli open open source che si possono utilizzare anche a fini commerciali e la cui costruzione è documentata scientificamente in modo certosino per cui sono nate delle alternative che mi fanno stare un sacco tranquillo sì anche se sai che cosa questo gioco alla commercializzazione poi ti porta a quelle stupidaggini perché secondo me sono delle stupidaggini tipo quelle che ha fatto Google e secondo me la dice lunga su l'isteresi di gruppo che sta uscendo fuori sull'intelligenza artificiale cioè io Google l'ho sempre trovato un'azienda molto seria a parte tutto forse una delle migliori delle big corporate con tutti i suoi lati oscuri è ben inteso non sto qua difendere Google figurati anche se siamo su YouTube quindi salutiamo mamma Google e ovviamente la figlia YouTube che ci vuole sempre molto bene però quando tu esci fuori con questi con questi non saprei nemmeno come definirli in modo gentile comunque con questi ADV in cui dici che la tua intelligenza artificiale è super potentissima mi viene sospetto che il più di quello che viene raccontato sull'intelligenza artificiale è marketing e poco altro poi ci sono ovviamente delle applicazioni serie tipo quelle che hai realizzato tu che mi piace molto particolarmente però alla fine della fiera quello che fa rimanere sui 10 miliardi di investimento di Microsoft o comunque l'hype globale il fatto di andare su CiaGPT e scrivere chi era Napoleone fammi il tema di italiano fammi cose di questo tipo e allo stesso modo da parte delle imprese chi è che magari gli passa dentro che ne so una practice policy o comunque magari uno SLA e poi gli chiede se effettivamente ci sono sono stati rispettati di SLA o cose di questo tipo e faccio qualche esempio riferito magari al mio lavoro però suppongo che qualcuno stia passando a CiaGPT parte del suo lavoro per automatizzarlo e poi secondo me subirà delle conseguenze di qui a breve o magari anche nel lungo termine speriamo di no però mi sembra che si sta andando troppo verso questa quest'idea che l'intelligenza artificiale possa farti anche il caffè sostanzialmente noi ci diamo pronti secondo me un grosso vantaggio competitivo Umberto è proprio questo cioè se io so che l'intelligenza artificiale ha questi limiti poi sono in grado di cavalcarla senza fidarmi troppo perché è proprio un cavallo impazzito fa delle cose spaziali in positivo fa anche delle gredinate enormi i language model sono appunto modelli di linguaggio c'è un motivo per cui si chiamano così perché è un modello statistico del linguaggio quindi non si parla di ragionamento non si parla di realtà di intelligenza generale si parla di linguaggio e questa cosa una volta che sei questo e ti ricordi bene questo secondo me sei al sicuro sei è un vantaggio competitivo proprio per il fatto che come dire non ti fidi pienamente ma sai che coprono tutta una serie di automazioni che ti possono facilitare questo secondo me fa tutta la differenza sì esatto bravo penso che tu sia d'accordo perché mi sembra che anche con mister Ripper è arrivato a questa conclusione sulla conclusione di Matteo Flora cioè che l'intelligenza artificiale è un buon un buono stagista però secondo me è un buono stagista che va alimentato moltissimo prima di imparare di imparare a fare il lavoro specifico ben inteso e secondo me potrebbe potrebbe creare dei danni soprattutto a chi sta fuori dal mondo del lavoro cioè se tu sei già dentro ottimo magari non subirai danni però secondo me avrà l'effetto di generare una forte barriera all'entrata nel mondo del lavoro probabilmente non in Italia che siamo indietro moltissimo sul lato IT ma forse all'estero potrebbe potrebbe generare un po' di distorsione sul mercato non so se siete d'accordo ci sta sia l'aspetto dello stagista sia l'aspetto di impatto sul mercato del lavoro io vedo questo nei prossimi tempi quello che si crea è un po' una goda lunga di intelligenze artificiali un po' come è successo per i siti web un po' come è successo per le applicazioni mobile cioè queste qui alla fine diventano diventano layer di tecnologia che si può adattare si può rendere nicchia B2C B2B le solite cose insomma tutto quello che abbiamo fatto prima lo rifacciamo adesso con e a mio avviso non solo ci sarà questa goda lunga ma c'è anche una stratificazione di tecnologia per cui il language model in realtà diventa parte di architetture che fanno cose più spinte per cui dal semplice staggista effettivamente chat GPT è un semplice staggista però se prendo chat GPT e ci metto sopra un grafo e ci metto sopra il ragionamento simbolico e ci metto sopra tutta una serie di cose che si fanno in intelligenza artificiale anche vecchio stampo e combino queste cose diventa diventa da uno staggista diventa un operatore altamente specializzato in qualcosa che tu invochi e con cui interagisci con il linguaggio piuttosto che premendo pulsanti e facendo cose e quelle lì insomma diventano parecchio potenti secondo me però ci vuole tempo e soprattutto non vanno visti come generali è la generalità che secondo me è ancora un pochino lontana in termini di anni sì forse forse lontana proprio per i problemi che dicevi poco fa rispetto anche al all'impegno e all'impiego di risorse proprio a livello hardware poi perché poi la fila della fiera forse c'è anche quell'elemento a questo punto penso che si riuscirà a fare uno step probabilmente quando riusciremo a avere non so a riuscire a inscatolare più dati passami questo termine o elaborare più dati con con le stesse tecnologie che conosciamo oggi cosa che non è così banale ecco faccio prendo una domanda dalla chat perché secondo me è molto interessante rispetto poi a quello che stavano dicendo riguardo della definizione di intelligenza artificiale riguardo anche l'evoluzione del settore è una domanda che ci rivolge a random che come ti dicevo è molto attivo sul pezzo in pre-live se l'intelligenza artificiale farà un flop che fretta avrà sulla ricerca perché secondo me forse anche questo è un rischio da non sottovalutare farà un flop che in effetti va sulla ricerca scientifica dici? sì esatto cioè io penso anche al fatto che l'intelligenza artificiale dal punto di vista matematico non è un qualcosa che abbiamo inventato ieri cioè c'è letteratura come dicevi bene anche negli anni 50 negli anni 60 certe cose le abbiamo scritte davvero tanto tempo fa il concetto di neurone non è proprio così recente cioè vedere magari nel 2000 e non so 25 l'intelligenza artificiale fallire nel senso che non riesce a inserirsi bene nelle business unit o comunque nella vita di tutti i giorni potrebbe avere un effetto sulla ricerca cioè vederla di nuovo abbandonata tu mi dici che magari ci sarà un nuovo inverno allora dall'incirca dal 2012 quando è uscita Alex quando è rinata questa cosa del deep learning che si era spenta negli anni 90 è riemessa nel 2010 qualcosa con la computer vision prima di passare al linguaggio e io sto aspettando da anni che si abbassi la curva ok non si abbassa e credo che diciamo il flop più che il flop ci sarà un po' un abbassamento delle aspettative appena il grosso del mercato si rende conto che si fanno un sacco di cose utili ma non è il voodoo perché è quello il problema attuale si capisce finalmente che è un language model come la curva del life di Gartner che sicuramente si diciamo adesso siamo al picco io aspetto da anni che finisca questo picco continuo ad andare però mi aspetto che c'è tutto direi ok noi il language model hanno questi limiti va bene però poi li usiamo in modo produttivo secondo me più che un flop sarà una fase un po' di aggiustamento delle aspettative e tra l'altro non vedo l'ora che arrivi sì 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 assolutamente anche se va detto che quella curva che tu hai citato diciamo che va presa molto con le pini nel senso che c'è gente che paga per stare su quella curva giustamente ci mancherebbe quindi diciamo che sotto certi aspetti ancora pesa tantissimo il marketing non so se segui Data Nightmare o se lo conosci vabbè Walter Vannini ti manco vabbè fa niente fa podcast le sue tesi diciamo sono abbastanza spinte ci mancherebbe non sono d'accordo su tutto quello che dice anche qui però secondo me quando quando un'intelligenza artificiale verrà considerata responsabile di un errore importante ripeto io ho una paura enorme non nell'utilizzo di tutti i giorni quando le cose vanno norma vanno sul valore atteso ecco buona sostanza cioè quando parliamo della norma quando parliamo di una gasiana quando parliamo di una situazione tutto sommato stabile senza problemi via discorrendo io ho paura appunto quando magari ci troveremo di fronte che ne so una crisi finanziaria l'intelligenza artificiale avrà suggerito di fare una certa cosa o una cert'altra e banalmente verrà incolpato lo strumento senza comprendere appunto che è stato usato male lo strumento e quindi la colpa è ancora dell'uomo e verrà additata magari un'intelligenza artificiale per pure ignoranza e tutto ciò perché perché il marketing ha spinto tantissimo secondo me nel darti l'idea che quella è la soluzione definitiva molto probabile che succederanno cose di questo tipo non ho dubbi che daranno la colpa al cacciavide ma cioè se ci pensi io ripeto magari guardo soltanto il mio aspetto l'economia e ci mancherebbe non voglio neanche annoiarti su questo tema però tutte le crisi se tu ci pensi è sempre colpa di qualcuno circa il capo espiatorio e secondo me l'intelligenza artificiale è perfetta cioè è un capo espiatorio fantastico perché tu puoi attribuire tutte le colpe dell'umanità puoi derivare l'esigenza di pregartene della contabilità nazionale puoi andare oltre determinati libri puoi distribuire di senso e paura e la politica va sempre a braccetto con queste cose e diciamo secondo me questa cosa può creare non pochi problemi ecco anche anche a sviluppi che secondo me potrebbero essere molto interessanti anche per l'uomo e tarpare le ali però magari viaggio troppo di fantasia ci mancherebbe però diciamo che la politica è italiana come ci può stare ti dirò di più spesso anche io mi trovo a fare riflessioni di questo tipo soprattutto sul versante diciamo socialista a me piace l'idea di avere questa roba che sia un po' più distribuita a livello di ricchezza creata da questi oggetti oltre al discorso che credo di accountability e di capito avere il capo espiatorio quando le cose vanno male io ho trovato molto rapidamente che stiamo un po' immersi nel nei fanboy in una grande parateria di fanboy su linkedin se dici una cosa del genere non solo sei comunista ma sei anche uno che non apprezza gli sviluppi che microsoft e altri ci hanno regalato sull'intelligenza artificiale quindi sei un ingrate non ne capisci niente perché perché stai sollevando la questione sociale politica economica quindi ti dico non solo sono d'accordo ma aggiungerei stiamo attenti a quando e come ne parliamo perché si presta si presta anche per essere accusati io tutta una serie di argomenti piano piano li sto piano piano abbassando di volume perché sembra quasi che a un certo punto si sono comprati tutto capito sì 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 no ma ho capito perfettamente dove vai perché anch'io tante volte guarda dopo dopo averlo detto tre quattro volte alla quinta sembra quasi di fare il predicatore nel porto quindi a un certo punto uno che ne capisce dice vabbè a un certo punto forse è meglio chiudersi della rocca forte e tanti saluti a tutti speriamo che io abbia torto come si suol dire però no ti dirò in verità che questa è diciamo quella che tu riporti su linkedin linkedin è un posto magnifico per quello che non lo frequento lo guardo e basta ho paura appunto di questi aspetti però ti dico io che sono molto promercato sono anche convinto che tecnologia come l'intelligenza artificiale e magari sbaglio però il tuo stregatto lo dimostra siano dei framework delle strutture e tu cioè è come se l'autostrada la potesse percorrere soltanto chi ha 50 anni e lavora per l'azienda Ferrero sparo eh capito che cazzata è no tanto che tu partecipi alla spesa pubblica bon devi accedervi ovvio in questo caso stiamo parlando di un'impresa e ci mancherebbe no profit e via discorrendo quindi se lei lo crea benissimo se lo possa tenere faccia i profitti che vuole però deve essere comunque un qualcosa di accessibile per cui ovviamente qua uno scontro con la politica ci sarà né più né meno però se parliamo di struttura se intendiamo l'intelligenza artificiale come struttura infrastruttura di base per costruirci su qualcosa è ovvio che lo Stato si deve impegnare per concedere a tutti l'accesso questo non significa ripeto arrivare poi a distopie utopie immaginarie vi discorreranno semplicemente che anche un promuercato può dirti sì ma dobbiamo partire dagli stessi punti di partenza c'è poco da dire altrimenti crei delle diseguaglianze enormi e non te ne liberi più crei delle caste è assolutamente infrastruttura io calcherei questa osservazione dovremmo tutti quanti cominciare noi l'abbiamo già fatto penso che chi ci segue anche alla fine sono i nostri sono ultra addentrati però togliere un po' quest'alone di mistero capire che è uno strumento con dei pro e dei contro e appunto va proprio a fare da infrastruttura tutta una serie di cose capito va questo anche un grosso passo avanti no no assolutamente diciamo che tante volte siamo noi anche che ci mettiamo in mezzo che io mi ricordo che sotto un video essendo che non avevo scalato i dati prima di fare il feed ma perché era soltanto di divulgazione erano arrivati due o tre esperti di data science magari sicuramente magari più esperti di me ci mancherebbe non metto neanche il dubbio a ricalcare il fatto che non avessi scalato i dati la cosa mi ha fatto veramente ridere nel senso se sono qui a fare un video di divulgazione probabilmente se dura 12 minuti ti devo spiegare anche perché ho scalato i dati e che tecnica ho usato ne perdiamo altri 10 e se l'idea era quella di essere catching o comunque spingere più gente a affascinarsi a questo tema diciamo che la scalatura dei dati la possiamo affrontare anche in secondo momento non trovi e quindi forse siamo anche noi un po' punta cazzisti sotto certi aspetti che ci sta sul lavoro ci sta ma anzi forse io sono troppo punta cazzista quando parlo di lavoro però quando parliamo di divulgazione siamo qua su youtube secondo me dobbiamo essere anche un po' slow sotto certi aspetti per quanto la critica sia corretta è ben inteso non voglio non voglio eluderla però secondo me c'è anche questo elemento in certe volte la divulgazione è un invito quindi questo invito deve essere piacevole chiaramente sei costretto a semplificare perché perché una volta che poi le persone sono incuriosite si sono lasciate andare da col tuo tutorial poi sono spinte a informarsi meglio e poi a studiare di più e piano piano lo imparano e infatti io vedo questi questi due stremi in cui il divulgatore magari lo vituperiamo perché semplifica troppo ma ovviamente è costretto a farlo perché se non semplifica deve fare il professore accademico che ti deve fare 20 minuti di premesse e se uno conosce un minimo di social media sa che di premesse non te ne sono date neanche 20 secondi la gente se ne va cioè i grafici della retention vanno a picco quindi a questi qui io farei vedere i grafici della retention e poi mi vengono a dire loro come affronterebbero un discorso del genere senza saltare tutte quelle cose lì guarda io io ci ho provato e forse sono riuscito una volta con un video molto clickbait quello che non ti dicono sulla statistica no e come l'ho affrontata l'ho affrontata con tre giochi il primo su il teorema del limite centrale senza dire che era il teorema del limite centrale il secondo sulla normale che non è la norma senza dire che insomma la normale non fosse la norma ma usando degli espedienti anche dei luoghi comuni se vuoi e poi il terzo punto un po' più complesso facendo vedere appunto che anche quando ci sembra di vedere davanti una gaussiana non abbiamo davanti una gaussiana più delle volte e ti devo dire che quel video è andato anche abbastanza bene per le metriche del canale infatti mi sono sorpreso ho provato a riprodurlo ma evidentemente non ha funzionato ho provato a fare un po' lo stesso gioco sui ghiacciai che comunque è un tema interessante legato al clima e via discorrendo e non ho ottenuto lo stesso risultato segno che tante volte anche deve andarti anche di culo detto proprio francamente e ci deve essere interesse per il tema probabilmente non ho non ho ancora compreso quali siano certe logiche però tante volte secondo me è proprio lo stesso informatico che tiene lontano rendendolo complicato poi noi abbiamo tutti i nostri termini cioè semplicemente per seguire una discussione devi avere in mano un dizionario tante volte e capisco perfettamente però quando parliamo di informatica i siti comunque qualcosa legato a a questo questo ambiente c'è secondo me una fortissima barriera all'entrata per comprendere dei discorsi quindi probabilmente dovremmo fare come fai tu secondo me tu lo fai molto bene banalizzarli certi argomenti e soprattutto spingere anche sull'open source da questo punto di vista perché se non abbiamo chiari quantomeno i punti di partenza di struttura possiamo possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo ecco però secondo me non si arriva tanto lontano vedo che non hai granché ragione stai molto d'accordo e allora io ti chiedo se puoi spiegarci un attimo come funziona questo stregatto che a conclusione il discorso che abbiamo fatto secondo me torna molto utile volentieri sì sì allora lo stregatto è se io volessi che il il mio bot la mia AI la mattina mi 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 so mi fa mi fa partire musica melodica francese in automatico quando ci parlo durante il giorno sa già che o faccio fatture oppure devo scrivere documenti per chiedere che ne so devo pianificare un progetto europeo e mi aiuta a fare quelle cose diciamo se gli chiedo che cosa devo comprare quando sono al supermercato me lo sa dire cioè se volessi fare a un'intelligenza artificiale cose operative e si ricorda quello di cui conversiamo e se lo tiene possibilmente in casa senza mandare in giro per server americani cosa faccio lo stregatto serve a fare questo è un framework quindi è per sviluppatori e che cosa serve questo framework framework se non sappiamo che vuol dire framework è un middleware è un programma che un programmatore prende e che ci programma sopra un altro pochino per renderlo un prodotto o un qualche cosa di utilizzabile è un po' come wordpress per fare i siti streamlit che l'abbiamo usato qua in una live tipo streamlit esatto questi sono oggetti che di loro non fanno niente in realtà però ti espongono una serie di tool è una cassetta degli attrezzi in cui tu puoi vendi con quattro righe di codice smanetti e c'è delle cose da far vedere cose che ti possono essere utili lo stregatto è questa cosa qui per prendere un language model che sia chat gpt che sia lama che sia mistral quindi sia commerciali che non e fargli fare cose che servono a te ok quindi ad esempio che ne so io posso utilizzare questo questo framework per generare prompt sostanzialmente detto proprio male lui sotto il cofano genera i prompt però quello che fa è che poi tu leghi questo ciclo che lui fa il framework il tipo si chiama R Agire Trival Augmented Generation ok non devi scrivere tu il prompt te lo fa il framework il prompt tu devi solo fare in modo di agganciarti agli eventi che lo stregatto ti lancia lui ti lancia una serie di hook per dire guarda che sto per mandare una risposta vuoi aggiungere qualcosa vuoi cambiarla vuoi guarda che appena arriva un messaggio lo vuoi tradurre in un'altra lingua poi che cerco qualche cosa da qualche altra parte quindi tu definisci delle cose che immagina che succede ogni volta che arriva un messaggio nell'orecchio dello stregatto partono tutta una serie di eventi che tu puoi manipolare per fargli cambiare le risposte e soprattutto c'è il discorso di tool è un agente per cui tu puoi definire delle funzioni python custom che chiamano servizi esterni ad esempio fare ricerche su amazon chiamare il tuo gestionale chiamare youtube studio e puoi far fare dal tuo bot delle cose più orientate a quello che ti serve tipo mi vedi quanto quante views ha fatto il mio ultimo video nell'ultimo mese tu scrivi la funzioncina python che fa quella cosetta e poi dopo il framework fa in modo che puoi accedere a quella cosa a livello conversazionale il gatto della chiama in automatico allora Alessandro scrive lo stregatto è quel framework che ti permette di automatizzare il lavoro di quel collega che non si capisce bene che ci faccia in ufficio non lo so se ce l'hai aperto e riesci a farci vedere qualcosa secondo me potrebbe essere anche molto utile ok eccolo qua ok si apre come c'è GPT questa scelta di design sì 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 allora qua vediamo di caricare un documento va a documents qua c'è un pezzo di arice nel paese delle meraviglie ok in inglese ok esatto perché funziona solo in inglese giusto? no 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 pure in italiano dipende dal language model se attacchi chat GPT ecco adesso lui se lo carica qui diciamo per partire da vedi 63% intanto che lui si mangia il documento vedi qua puoi settare sia il language model c'hai chat GPT coer c'hai holla ma c'hai non lo apro perché si 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 e poi vai tranquillo mettere pure magari sorvoliamo avrai un altro modellino che serve a gestire i documenti ci sono i plug-in che puoi installare ok questi sono quelli di c'ha GPT giusto? ma questi sono proprio fatti per lo stregatto ah ok sono tutti open per esempio questo qua ecco mi auto-to-list cerca il podcast questo l'ha fatto Eugenio Petola che è uno dei contributori allora Alessandro che è intervenuto prima ha fatto il debit ah ecco ti permette di quando carichi dei documenti questo qui fa in modo che non ci siano duplicati il motore di ricerca questo ti manda ti fa fare delle ricerche su Google wow questo ti fa cambiare il prompt ok quindi quindi oltre a creare questa intelligenza artificiale non lo so questo questo top sull'intelligenza artificiale non saprei nemmeno come definirlo rimando alla definizione che ha dato bene Piero prima avete creato anche quindi tutta una serie di plug-in beh alcuni vedo anche gente che viene fuori dall'Italia quindi il progetto si si ultimamente viene perché poi abbiamo delle partnership con altri progetti open in giro per il mondo cominciamo a versi una cosa molto carina la maggior parte di noi diciamo siamo italiani la maggior parte soprattutto quelli di partenza poi piano piano ci stiamo infoltendo e poi c'è la memoria dove tu qui puoi accedere ai contenuti della memoria dello stregatto ad esempio questi sono pezzi del documento che abbiamo caricato ok ok quindi questo è come l'hai lavorato sul suo sulla sua memoria sostanzialmente esatto perché puoi accedere alla conversazione però qui hai una mappa proprio geometrica dei contenuti della memoria puoi installare il plugin oltre a scriverli puoi cambiare language model e qui c'è c'è la chat in cui chiedi puoi chiedere insomma varie cose e quando insomma ci chatti lui non solo ti cerca di risponderti ma ti dice anche da dove ha preso oh questa è una cosa figa le fonti e lo fa anche con i siti web se tu carichi qui dentro puoi anche caricare tranquillamente dei siti web lui ti dice guarda l'ho preso da questo indirizzo nei plugin poi puoi aumentare puoi fargli ingerire anche mp3 csv mp4 file multimediali però di suo è soprattutto testuale ecco ma da questo punto di vista cioè tu ad esempio sei d'accordo con la critica che ha mosso il gdp a open AI cioè scusami il garante della privacy open AI cioè rispetto ad esempio al fatto che loro abbiano utilizzato i dati personali o comunque diciamo dati non proprio così disponibili nella loro disponibilità per addestrare il modello lì sai che questi turbo capitalisti poi approfittano della mancanza di leggi per posizionarsi sostenendo anche poi le spese legali ed è successo proprio questo cioè tutto ma la cosa è partita già con i generatori di immagini stable diffusion la pure c'è una causa assurda in corso una class action il punto è che ormai il dataset sta lì quelli ci hanno creato i modelli e quindi chissà per quanto per quanti anni va avanti la cosa quindi non so non so come va a finire ovvio però ad esempio tu dicevi creiamo un'intelligenza artificiale europea o quanto meno italiana il punto è che mi pare che l'Europa stia andando verso soltanto la regolamentazione mi ne frega particolarmente il grande problema che ci dedichiamo più ai regolamenti che ai fatti assolutamente sì ultimamente l'unica eccezione che si è vista di nota è Mistral che è una start up comunque sempre in ente commerciale però europeo ultra finanziato non ai livelli di europeo ma comunque ultra finanziato per i canoni delle start up perché il finanziamento sta nelle centinaia di milioni di euro credo è francese soprattutto e loro stanno pubblicando in open quindi hanno sposato diciamo il modello insomma e quanto sono distanti diciamo che hanno rilasciato un modello che si chiama Mistral 7x8b che è un analogo per prestazioni di chat gpt al 4 ancora siamo lontani però cominciano a fare cose interessantissime io sono un grande fan se proprio devo essere fanboy ti fa più per Mistral che per open AI detto francamente anch'io un pochino più che altro perché cioè boh praticamente in Europa non c'è nulla sull'innovazione tecnologica io faccio riferimento anche alla mia realtà ma l'unica impresa di innovazione tecnologica che io trovo nella mia area Bergamo-Brescia quindi non parliamo di un'area sottosviluppata comunque è una buona area se andiamo a vedere poi il confronto europeo è l'unica che io sento parlare sento citare è camasport che per Dio fanno un ottimo lavoro secondo me da quel punto di vista però diciamo che vederla vedere che questa cosa attiri soltanto sullo sport mi fa dire cavolo siamo proprio indietro cioè dovremmo puntare anche altri settori cioè a me fa piacere anche perché ho alcuni amici che ci lavorano e anzi io gli auguro tutto il bene possibile perché fanno un ottimo lavoro però mi fa rabbia sapere che poi non c'è un cluster di imprese mi fa rabbia sapere che praticamente loro sono l'eccellenza quando dovrebbero essere a me piacerebbe vedere 100 200 imprese di quel livello nei più disparati settori ecco invece vederne soltanto una che è una mosca bianca mi fa dire che abbiamo perso un'opportunità forse magari riusciamo a raggiungere gli states però se poi l'Europa non dice niente probabilmente anche a livello poi di politica internazionale di discorrendo anche perché le sue imprese stanno regredendo detto francamente però magari questo discorso che va un po' alate però siamo indietro si noi piano piano noi ci mettiamo sempre quei 5-10 anni in più però poi tra l'altro questi ambienti qui delle super start-up del deep learning questi sono pieni di italiani cioè pieno di ricercatori italiani che sono andati sì esatto ti fa incazzare il trim capito sì sì ma qua lo sai che c'è qua c'è una semplice partita IVA di far uscire gli occhi fuori dalle orbite per dire a volte è pesante le carte proprio poi se vai a vedere non è troppo divertito fuori eppure infatti secondo me è culturale che va tutto male va tutto male un po' è lo stato che non è che ti aiuta più di tanto più che altro si limita a fare il socio invisibile ecco diciamo così a volte anche un po' che non ne usciamo anche per cultura forse dai comincio a pensarlo anche un po' così beh secondo me proprio anche la struttura cioè poi tu hai fatto anche il consulente se non vado errato per tanti anni io adesso io lo faccio da poco nel senso che io ho 28 anni ho iniziato a fare consulenza 24 prima in azienda ora da 3 anni questa parte da solo mi rendo sempre più conto che siamo molto indietro lato digitalizzazione possiamo fare delle battute però tante volte davvero cioè quando si parla di avete un server aziendale io lo faccio come battuta però c'è davvero chi che mi risponde sì abbiamo Google Sheet lì condiviamo tutto spettacolo nel senso sì ecco per Dio fa il suo sporco lavoro perché anche qui non vorrei andare sempre contro però diciamo che non è proprio un server detto francamente c'è quel meme no? che Excel tiene sulla finanza mondiale però magari sai fare un passo avanti forse non guasterebbe sì la cosa che ha colpito sempre da consulente proprio è questa io allora accetto che stiamo un pochino indietro che ci svegliamo dopo no? che stiamo tutti alla fine anche vivaci tutti piccoli imprese no? ognuno è il re del suo feudo alla fine ci sta pure quello perché non è che i grandi giganti siano per forza un bene anzi secondo me no 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 il venditoriale quel nostro c'ha il suo perché però il punto è che poi vogliamo fare le cose super soniche tipo allora facciamo le AI facciamo qua facciamo la put e tu dici ok ma c'hai programmatori no c'hai i risorsi di un qualche tipo no tutto su Excel tutto su Google Docs va cioè che AI devi fare che machine learning devi fare più che altro aspetti che qualcuno fa un SaaS e te lo vende sì quello puoi fare perché non puoi fare altro SaaS intende software service giusto? sì certo scusa sì sì no no software già fatti utilizza subscription tu semplicemente lo usi ma già sarebbe tanto se stanno dietro ai software già fatti e se li studiano ma manco quello è tutta una ghiacchiera tante volte mi fanno troppo ridere infatti ecco secondo me un grosso progresso per noi sarebbe questo cioè fare rete e fare standard cioè la bellezza che si è vista ad esempio con una tecnologia come il web secondo me è stata allo standard ossia Tim Berners-Lee ci ha dato l'HTML il CSS prima piano si è creato il V3C e avevamo questa piattaforma distribuita in cui se eri un gigante facevi il gigante ma sei di Pippo e c'avevi la pizzeria oppure c'avevi la libreria oppure c'avevi che ne so il fun club del criceto del Madagascar dopo di parlarne potevi pubblicare io spero che nell'intelligenza artificiale avvenga questo cioè mi piacerebbe proprio vederla questa coda lunga che si allarga che dà spazio anche ai piccolini di dire la loro al loro modo certo se ci diamo una svegliata è sicuramente meglio sai perché ti dico che secondo me sarà un'altra occasione persa e secondo me questo è un problema perché appunto come dicevamo all'inizio questa branca dell'informatica non pretende che tu sia un informatico sotto certi aspetti per questo che io dico potremmo non dico sempre non dico al 100% però con un minimo sforzo potremmo fare un balzo veramente importante un catching up veramente importante come magari quello che fece il Giappone al suo tempo la Cina al suo tempo e via discorrendo e invece Bob siamo qui fermi a dire che bella c'è il GPT sì sì bella però cioè c'è lei lì copiala riferendoci poi al discorso che dicevo all'inizio se vuoi un vantaggio certe volte copiare non è sbagliato se la risposta è giusta copiare non è sbagliato un vantaggio che appunto sai già che si può fare c'è già tutta una serie di indizi sul come sì è così è che questi non lo so perché si sono comprati tutti se ci pensi se tu vai ti è mai capitato di andare in un ufficio della pubblica amministrazione e vedi l'impiegato che usa Windows chiaramente è vero che è una cosa da nerd rosicare per queste cose però io ogni volta che vedo un ufficio della pubblica amministrazione e dentro c'è l'impiegato che usa Windows io mi sento morire cioè vedete ok siamo proprio sconfitti non bastano i missili nucleari non bastano le basi pure dentro i computer abbiamo la loro roba sì 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 ma sai cosa è che lì se già pensi a dire mettiamo una distro Linux significa anche avere qualcuno che sappia intervenire in manutenzione sotto certi aspetti il problema è che anche qui ora io ho fatto un paio di colloqui nel senso che un paio di supervisioni di colloqui le ho ancora fatte e spesso volentieri le competenze dichiarate sono competenze fittizie cioè nel senso che io ho visto delle persone che mi arrivavano e mi dicevano di saper fare le cose e si fermavano a un semplice filtraggio o una semplice ricerca e via discorrendo cioè tu immagina nella pubblica amministrazione dove vengono scelti con un quiz a crocette tante volte poi non è tutti così cioè ci mancherebbe c'è gente anche che fa il suo lavoro lo fa anche bene però io avrei paura a dargli in mano un Linux francamente sotto certi aspetti però ci abbiamo proprio provato lo sai che noi adesso l'alternativa sembra Windows no oppure Linux che però chiaramente uno deve sapere un pochino dove mettere le mani secondo me neanche troppo però comunque uno deve sapere dove mettere le mani il punto è che non ce le siamo create le vie di mezzo capito si capito perché se noi ti do ragione sul fatto del chat GPT che potrebbe essere un'altra occasione persa se facciamo la stessa cosa ossia se lasciamo chat GPT contro sistema free tipo stregato private GPT o altra roba di questo tipo che però per tirarlo su devi essere per forza un tecnico se si riduce a questo effettivamente però ti posso dire una cosa secondo me a sto giro ci pensano i tedeschi e i francesi beh speriamo cioè nel senso io non sono nazionalista quindi figurati francesi e tedeschi ma non è non crea problemi però la reazione della Francia è assolutamente netta stanno combattendo proprio coi denti fuori dalle mandibole i francesi stanno proprio combattendo duro e i tedeschi anche stanno pubblicando un sacco di strumenti sono specializzati ad esempio sui database hanno tutto un loro movimento noi basta che ci accodiamo un pochino a loro secondo me ecco io non credo che noi come Italia siamo in grado di fare troppo da soli in termini di iniziative strutturate pure perché poi non ci piacciono le regole poi stiamo parlando per stereotipi ce lo perdono però secondo me se ci accodiamo a loro e ci mettiamo in coda magari con la nostra creatività il nostro tessuto frizzante la nostra capacità di gestire il caos più totale secondo me è l'Europa secondo me la chiave in questo senso qua non è l'Italia l'Italia non va da nessuna parte di questo proprio sono straconvinto in intelligenza artificiale poi non voglio parlare di cose che no ma guarda tante volte almeno secondo me tanti problemi verrebbero meno con un po' più di federalismo europeo centralità europea chiamala come come ti pare poi sul come possiamo discuterne mille volte però con progetti europei secondo me possiamo dire molto di più la nostra per tutta una serie di aspetti storici legati proprio anche ai flussi finanziari alla capacità di finanziare imprese via discorrendo guarda la capitalizzazione italiana e ti rendi conto che non regge il confronto rispetto agli states certo che se guardi inizi a guardare la capitalizzazione europea dici ah ok forse qualche possibilità ce l'abbiamo con tutta una serie di sé ma però forse io non dico di essere i migliori ma quantomeno iniziare a scendere in campo che tanto male non è poi da cosa come si sa nasce cosa e magari si aprono opportunità alternative innovazione sviluppo per io finché non secondo me finché non non ti metti in testa che devi scendere in campo c'è poco da fare va bene va bene io direi che qua sotto in descrizione trovate i link sia al canale di Piero che ha fatto un sacco di tutorial veramente veramente utili sia su pandas su deep learning intense floor e anche su machine learning se non vado errato io mi sono pippato quello su tense floor veramente figo ve lo consiglio poi trovate anche la sua applicazione scusatemi la sua intelligenza artificiale lo stregatto e direi andate a iscriversi al suo canale a iscrivervi al suo canale perché merita veramente poi lui è meno costante dalla norma però quando esce ne vale la pena veramente quindi grazie grazie davvero e ricordatevi mettere like mettete questo like perché serve veramente serve è importante credo che anche Piero sarà stanco di dirlo però è brutto facciamo un po' il marketing anche noi detto francamente buona serata a tutti grazie 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 a tutti